Hanno preso il via questa mattina intorno alle 8.30 le riprese del videoclip ufficiale di Il Pescatore di Fabrizio De Andrè. Via di Roma, nel cuore di Ravenna, fatto da quinta scenica alla parte iniziale della storia ambientata ai giorni nostri. Un video colossal, lo aveva definito ieri in conferenza stampa al regista, poiché nelle sue intenzioni non vi è la volontà di proporre un video di da scalico rispetto alla canzone, ma raccontare una storia che abbia il mood della canzone, cioè ne riproponga lo stato d'animo. Guidati dal regista Stefano Salvati, un cast tutto ravennate dagli attori protagonisti alle comparse. Un'occasione per Ravenna e da domani per Marina di Ravenna per mostrare i propri monumenti e le proprie bellezze, tra le note e le parole di una canzone senza tempo.